Il precedente piano socio-sanitario si è rivelato inadeguato e fallimentare, anche alla luce dell'attuale fase pandemica. È necessaria una riorganizzazione con una medicina del territorio più capillare e una graduale restituzione dei servizi che negli anni sono stati ridimensionati o addirittura eliminati. È determinato Francesco Baldelli che con queste parole ha dato il via allo studio del nuovo percorso di analisi e di valutazione di tutte le strutture ospedaliere. Ieri infatti il presidente Acquaroli ha annunciato di aver affidato questo incarico a Baldelli, assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici che comprende anche la delega all'edilizia sanitaria ospedaliera e all'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Entrambi ex sindaci e paladini da oltre un decennio di numerose battaglie sul settore anche a tutela delle aree interne. Ci stiamo mettendo alle spalle il vecchio piano socio sanitario della regione Marche per un percorso che non sarà né breve né facile ma vogliamo restituire ai nostri territori il proprio diritto alla salute. E quindi che cosa farete nello specifico? Censiremo per quanto riguarda la mia delega, la mia competenza, le strutture esistenti e procedimenti in essere per costruire un nuovo piano sanitario che sia più equo, che restituisca il diritto alla salute e agli ospedali ai nostri territori. Quindi si può parlare sia di ricostruzione che di sistemazione dei vari ospedali? Io dico che si deve partire da una progressiva restituzione di servizi che sono stati chiusi nel 2015 nei nostri comuni, nei nostri territori, non solo nella provincia di Pesaro ma anche nelle altre province marchigiane per poi pensare anche al potenziamento degli ospedali esistenti. Penso nella nostra provincia a Pesaro, penso a Fano che è stata duramente colpita dai piani sanitari che si sono succeduti, penso a Pergola e Urbino e penso alle tante strutture ben 13 chiuse in questi anni nel nostro territorio regionale. Ricordando le sue battaglie lei comunque è sempre stato contrario agli ospedali unici? No agli ospedali unici, sì ai potenziamenti dei nostri ospedali che non preclude appunto nel potenziamento anche la possibilità di potenziare le strutture anche con nuove edificazioni che non siano ospedali unici, che non chiudano gli ospedali esistenti, che portino ad una progressiva riapertura delle strutture che sono state chiuse, che sono vitali per molte parti del nostro territorio.